un ehi la ciurma, io sono Amazete e se rieccoci di nuovo su Imperator Roam vi dirò che mi sto venendo abbastanza mal di testa a stare dietro tutto questo casino di alut però vabbè, lanciamoci che poi passa tutto, allora ci sono anche i barbari qua che dobbiamo picchiare con bella violenza, va bene dove sta andando scappando questo lato? Afrodite, l'attanto li stiamo inseguendo anche noi bellissimo il problema è qua sotto dove abbiamo perso praticamente tutti i nostri uomini qua, contro questi stupidi di alut, ma non hanno più... è nato un altro boccia e niente, allora torniamo qua sopra, dove sono i nostri... ok prendo l'attrito qua no, sono gli altri, prendo l'attrito questi barbari continuano a spawnare, ho una bella fregatura allora, voi andate qua l'ultima volta avevano usato il... l'envelopment la frange è scarsa contro l'envelopment, vediamo se c'è qualcosa di shock action, no eh, skirmishing andiamo con uno skirmishing nel dubbio no, 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 non volevo... no, scusi, io volevo lui prima li ha presi insieme, non lo so mi sa che vi pizzico comunque belli miei, sai? no, ok, erano sempre con lo skirmishing erano sempre con il... l'envelopment ma io avevo messo... ho cambiato, avevo messo l'altra roba vabbè, o ci stanno morendo come dei cani meglio così ottimo, allora tu togli il forced march e seguri la sotto mentre io mando quelli allora voi andate qua ci perderemo parecchio di manpower, ma oh ragazzi, no, scusa, cosa dire dobbiamo orarli ah, posso affrontare un military tradition, allora qua cosa abbiamo? military colonies più 5 per cento, meno 15 per cento cavalry skirmish, heavy cavalry, light infantry, heavy cavalry, light infantry, mercenary maintenance cosa abbiamo? static experience, tirame costa, light infantry enslavement efficiency light infantry, light infantry, archers, archers, light infantry 9 ice quests, military colonies però non so come funzionano le colonie militari in realtà non so se posso colonizzare anche dei posti vuoti, tipo qua che abbiamo tutta questa zona no, posso mettercela qua, tipo una... oh no, forse devo scegliere dall'esercito se c'ho un esercito in un posto posso dirgli, ehi fammi una colonia militare 2000 di manpower e 21 di coso e quello diventa leale a risturgitone e appare un freeman vabbè ok, non dovrebbero andare verso fastidio l'un l'altro eh, farei così cos'è che vogliono? cammelli no pellicce vado per le pellicce eeeh fendere i lagidi guadagna 25 di prestigio va bene ho bisogno di 18.000 uomini, è una roba enorme no, non voglio darti il vetro friggio del kaiser no, non voglio darti il vetro friggio del kaiser se mi piglia tanto di quell'attrito qua in questa zona del deserto con tutte le pistermate fermate Grazie. Grazie. Un'occupazione completa sarebbe molto più interessante, ma... E' blu su blu, ecco perché non si vede... Che stupidadine... Che stupidadine... Voglio pinzarli là sotto, no? Non vanno là sotto? Schiacciamole qua. Cioè adesso che non hanno main power dovrebbero diventare delle armate davvero ridicome da affrontare. Non so dove vogliono andare, tra l'altro. Mi fa un pena. Sti pezzenti. Adodo di cascoinos... Questo anche... Adodo di cascoinos... Allora... Dare tutto di cascoinos sarebbero anche d'accordo. Tutto questo disonacordo di cascoinos. Ma non mi basta. No, no, no. Oh, per me voi siete morti. Oh! Metà le mando qua. ah scamos non l'abbiamo preso vabbè adesso vale che vado a prendere due di casco carpet siege come i bei vecchi tempi si è spedendo un sacco di soldi in belle arti però beh avevamo 1500 prima ah no no vabbè quello è già di è già occupato no oh no no non è occupato beh mando questi allora mannaggia abbiamo perso tutto il manpower praticamente no vai là che va in mano lo prendo con questo oddio ha l'influenza al basileus non è buono non è buono speriamo che non ci muoia non dovrebbe essere tanto vecchio in realtà ci sono quarantina d'anni però boh non si può mai sapere certo che siete anche stupidi a due dei cascoi ma non posso dirvelo era necessario non è buono non è buono non è buono non è buono boh ci sono dei problemi non ho capito bene di che tipologia allora intanto qua trasferiamo tutto a due dei cascoi non è buono trasferisce due dei cascoi non è buono non è buono sono tutti deserto questi porca miseria 6 6 8 8 9 10 12 13 14 Mi sa che ci schiantiamo Mi sa che ci schiantiamo Proprio potenza Dai dai Arrivata Niente Porca miseria Ah stanno andando da raba Eh non lasciali andare Sentino un attimo eh Certamente c'ho le altre armate qua In caso Stanno prendendo attrito tra l'altro Ci credo che stiamo finendo tutto il manpower Che cattiva idea sta guerra Porca miseria Quello è il loro forte Vero? Bene andiamo a prendere il forte Ciao di tutto Ciao no no, stai qua che non prende il territorio no, voi tornate qua dentro ma ancora? quanti cavolo di figli stava avendo sto qua? cioè quanti figli ha adesso? quattro figli, Mareu no, vabbè, posso darglielo all'oliver si è proprio finito tutto il manpower ma voglio un'annessione completa ormai mi esce la manpower più 5% si, 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 subito crearmi un morale dei poveri la posso spendere? vado di nuovo per il manpower perché si è messi malissimo di manpower vado 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 non dovrebbe darci troppo fastidio what? ah, hanno cercato di fare una sortita cosa è successo? no, voi mica ho capito dove sono venuti quei 15 minuti what? che bug ma voi fate marce forzate e tornate su, va? tipo la stiamo finendo del tutto il manpower loro lo avevano finito ma 57.000 uomini hanno come si vede sono ok, la sedia alba è presa gli voglio tutto vado vado le casco e non si sarà contento spero ma si sta bene qua ok per ora si quindi vi lascio un attimo la app per non far tornare tutti insieme ok adesso l'annessione comunque ci metterà una vita infatti 645 sono più di 100 anni però quindi ehhh ma io mando di una volta mi duoto dai cui direi che per questo video può essere tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace, un commento costato e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto ciao a tutti buona giornata ciao a tutti ciao a tutti